Vuoi sapere che cosa succede se fai incavolare la tua casa? Ecco, te lo faccio vedere io, guardala, diventano brutte così, e arrabbiate, bisogna stare attenti perché vedi, sono trovato in un villaggio, e queste sono arrabbiate, e che fate? Adesso io provo ad entrare in una di queste case arrabbiate, posso? E' permesso? No? Eh, più o meno, vedo le gambe, sono entrando, sto guardando sotto la gonna di una casa arrabbiata, meh, meglio andare in un altro villaggio, non mi piace questo, guarda questa, Che vola, pure posseduta, sembra un fantasma, quella invece è mezzo interrata, tutta accigliata, brutta, sembro io quando mi arrabbio, vado via, vado